Allora, è chiaro che la crisi del modello neoliberista, che comincia nel 2007, poi diventa sempre più grave, anche perché in mezzo ci si mette la pandemia, poi ci si mettono le guerre, l'inflazione. Quella crisi produce una delegittimazione del modello stesso presso i cittadini, ma in realtà è una delegittimazione della democrazia. I cittadini si rivolgono, chiedono protezione alla politica, perché stanno capendo sulla propria pelle che le grandi promesse liberatorie del neoliberismo non si avverano e anzi le difficoltà economiche, le contraddizioni economiche si aggravano e naturalmente chiedono alla politica che la politica intervenga. La politica non può intervenire perché è debolissima e perché i ceti politici, quelli moderati, conservatori e quelli di sinistra, si sono tutti consegnati al modello neoliberista. Sono tutti favorevoli alla globalizzazione, sono tutti favorevoli al turbocapitalismo, eccetera. E allora cosa fanno i cittadini? Nascono quei fenomeni che si chiamano populismo, che sono qualche cosa di simile alla dinamica descritta da Polanyi, cioè la società chiede di essere difesa dalla politica rispetto alle dinamiche economiche. La prima volta in cui questo succede nascono i fascismi. La seconda volta, cioè adesso, nascono sistemi populisti che possono essere al di là della destra o della sinistra, come si vogliono, come si proclamarono in Italia, ad esempio i Cinque Stelle, possono essere sicuramente di destra, come in Francia, e possono essere anche di sinistra come in piccolissimi movimenti politici, possiamo vedere anche in Italia. Anche in linea teorica è possibile che vi sia una sinistra sovranista, cioè una sinistra che vuole far valere la sovranità del popolo contro, dunque, cioè un concetto politico, contro i grandi poteri economici e contro la dimensione sovranazionale dentro la quale l'Italia si è venuta a collocare con la nascita dell'Unione Europea. In linea teorica è possibile, in linea pratica, il grosso del sovranismo, cioè, ripeto, della rivendicazione della sovranità popolare e nazionale, con l'idea che se un paese è sovrano fa gli interessi di tutti i cittadini e non soltanto dell'elite economica. Nella pratica il sovranismo e il populismo, cioè il populismo è sostanzialmente l'idea che il popolo è buono e le élite sono malvagie. Di fatto, il populismo, quello vincente, nasce lontano, tanto dalla destra quanto dalla sinistra, e poi cade a destra. E comunque sia, il punto è che la corrosione dello Stato, la corrosione della democrazia, la corrosione dei processi democratici, non l'hanno generata i populismi. Quella corrosione l'ha generata il capitalismo neoliberista. I populismi sono una richiesta popolare di difesa. Questo va detto, perché altrimenti non si capisce niente. Soprattutto la crisi del paradigma neoliberista è la crisi della globalizzazione sotto i profili internazionali. Cioè è il ritorno della geopolitica. Mentre la globalizzazione ha bisogno della negazione della geopolitica, cioè ha bisogno di pensare allo spazio come uno spazio liscio e uniforme, in modo tale che su di esso le ondate delle potenze economiche si muovono senza incontrare ostacoli, noi vediamo, a partire dagli anni X di questo secolo, che sotto la superficie apparentemente liscia della globalizzazione emergono dal basso grandissimi poteri economici, che sono poteri politici. Cioè, il principale lo conoscevamo tutti negli Stati Uniti, ma poi vediamo che compare la Cina, vediamo che compare la Russia, che si riprende dal disastro yeltsiniano, e vediamo che le logiche lungo le quali si muovono questi soggetti sono le immutate logiche della geopolitica, cioè ricerca dell'accesso al mare caldo da parte delle potenze continentali e da parte della potenza marittima tentativo di tenere le potenze continentali lontane dal mare, cioè chiudendo in un anello di basi militari, di alleanze economico-politiche, chiudendo i bordi esterni del continente euroasiatico, con in mezzo un problema enorme del mondo islamico che è numerosissimo, ma non è un'unità politica, è travagliato dalla questione israelo-palestinese, dalla questione sunnita-shiita, insomma, lì c'è un magma incandescente che non conosce pace. Noi vediamo oggi che il sistema delle relazioni internazionali è un sistema di conflitto perché l'impero unico degli Stati Uniti dagli anni 90 fino a metà degli anni 2000 è sfidato adesso da altri imperi che hanno caratteristiche diverse e siamo nella fase in cui si scricciola il sistema perché vi sono movimenti di assestamento che se vanno bene producono assestamento, se vanno male producono terremoto, che è esattamente la nostra fase. I politologi parlano di trappola di tucidide, cioè di quel meccanismo per cui un impero potente vede nascere al proprio fianco un impero meno potente ma presumibilmente in crescita, tendente a diventare un potere sfidante, mentre l'impero potente è statico, non cresce più e allora ha la tentazione di fare una guerra preventiva contro quello. Ovviamente quello potente e statico sarebbero gli Stati Uniti, quello un po' meno potente ma molto dinamico sarebbe la Cina poi con la complicazione che non c'è solo la Cina nel mondo ma c'è la Russia che è molto diversa e che ha mire diverse però ce le ha. e poi c'è l'India e poi c'è tutta una serie di potenze regionali molto dinamiche dal Brasile alla Turchia. Insomma, vi sono l'Iran, vi sono molti movimenti che non si vedevano durante la fase duale delle relazioni internazionali, cioè al tempo della guerra fredda, l'est-ovest in cui la geopolitica non c'era perché c'erano soltanto due potenze mondiali che si fronteggiavano e basta e non c'era neanche questo grande movimento al tempo del potere della unica iperpotenza, cioè della potenza americana che aveva vinto la guerra fredda ma che, come tutti sanno, non ha saputo gestire la propria vittoria con un disegno di pace. E quindi adesso stiamo vivendo una doppia crisi, la crisi del neoliberalismo su due fronti, su un fronte interno e lo vediamo dal fatto che vi è un trend di conservazione o addirittura di reazione nel voto popolare, cioè un trend di rabbiosa contestazione del progressismo ritenuto corresponsabile dei disastri economici. Ritenuto non a torto perché in effetti tutte le forze progressiste si erano tutte contaminate con il neoliberalismo. E sotto il profilo internazionale vediamo un ritorno della politica, della vecchia grande politica, della politica di potenza egemonica e dei conflitti. Quello che prima della fine guerra mondiale accadeva in Europa come politica di potenza nel concerto delle potenze fra gli stati adesso si dà su scala globale nel concerto delle potenze che sono di scala continentale, di entità continentale. Che cosa è in corso? È in corso il fatto che indietro non si torna, per cui alla condizione della monopotenza monopolistica non si torna. Bisogna sperare che si vada verso una configurazione pluralistica della scena internazionale di riconosciuto pluralismo, cioè che gli Stati Uniti accettino il fatto di non essere l'unica grande potenza al mondo, non si torna verso l'universalismo planetario dell'ONU, cioè verso l'universalismo giuridico, che è il grande sconfitto. In fondo l'universalismo economico è solo parzialmente sconfitto, nel senso che le sanzioni hanno interrotto in parte il flusso economico mondiale, ma certo non del tutto, mentre l'universalismo giuridico è sostanzialmente scomparso. Nelle politiche interne vi è un trend di ricerca di stabilità attraverso il conflitto. La stabilità attraverso il conflitto è un concetto di destra. Si stabilizza un ordine trovando un nemico, che è più o meno quello che in modi diversi, con intensità diversa, sta accadendo nei paesi dell'Occidente, travagliati da guerre culturali interne, di cui la cancel culture è una delle forme, travagliati da guerre culturali interne, in cui pare che la prevalenza, almeno numerica a livello elettorale, vada alla parte chiamiamola di destra. Ma attenzione, non è più una vecchia destra legge e ordine, è una destra che ha continuo bisogno del nemico. C'è una destra che nasce dalla mobilitazione generata dal capitalismo, nasce dalle contraddizioni di quella mobilitazione, ma non dà soluzione. Non dà soluzione. Viene votata da ceti medio-bassi che sono alla ricerca di stabilità, ma non l'avranno. Sia perché quella destra non ha nessuna intenzione di cambiare il paradigma economico dominante, ovviamente, sia perché le risorse simboliche che adopere e deve adoperare per risarcire in qualche modo i cittadini del fatto che non li può risarcire economicamente e li può risarcire solo simbolicamente, bene, le risorse simboliche che adopera sono tutte risorse simboliche polemico-aggressive. Tu stai male per colpa di i race party, l'utero in affitto, i migranti e tutto quello che di volta in volta si può individuare come causa di disagio. Mai tu stai male per colpa del paradigma neoliberista che, benché fatto a pezzi sotto il profilo dogmatico, non viene sostituito da null'altro, cioè non ha dimostrato la vitalità, la capacità economica di crescita che millantava e tuttavia conserva, pure nella propria ormai inefficienza, conserva la propria totale ripugnanza a qualunque azione redistributiva. Per cui questa novità delle destre è una novità che in linea teorica sarebbe transitoria. Come avete visto in Italia, dopo il crollo della Prima Repubblica che da parte degli ultimi anni un ordine lo forniva, un ordine moderato ma lo forniva, avete visto una continua serie di investimenti politico-simbolici dei cittadini alla ricerca di stabilità, stabilità euforica, e allora Berlusconi. Stabilità ancora una volta euforico-polemica, e allora Renzi. Stabilità non più euforica, tutta rabbiosa, ed è il Movimento 5 Stelle. Stabilità tutta rabbiosa, ed è la Lega, sono tutti partiti che sono arrivati al 40%, a un certo punto, e tutti tramontati, bruciati, e adesso partito di destra del 30%. stabilità rancorosa da una parte e al tempo stesso ottimistica, che proclama apertamente ottimismo, lasciando il pessimismo alla sinistra. La sinistra che proietta sfondi oscuri, moriremo di caldo, moriremo di freddo, moriremo per mancanza di energia, eccetera, moriremo perché siamo incapaci di riprodurci, mentre invece la destra è tornata a un'euforia molto polemica. Attenzione, nessuno di questi, nessuno, ha mai fatto un discorso strutturale.